ragazzi io non so veramente come iniziare questo video e quindi ben ragazzi sono mario196 e benvenuti in questo nuovissimo video raga impresa leggendaria spettacolare di un campione completo come Tadej Pogacar che a 100 km dal traguardo attacca come solo lui sa fare signori uno spettacolo puro e stiamo parlando del campionato del mondo di Zurigo 2024 a 78 km riparte ancora rimane con Sivakov e a 51 dal traguardo se ne va da solo alla conquista dell'iride della maglia arcobaleno che ci puntava ci ha puntato e se l'è conquistata veramente con le unghie e con i denti veramente che nell'ultimo giro ha un po' rischiato ma ha fatto un'impresa raga 100 km di attacco una roba fuori dal normale spettacolo puro spettacolo puro lasciate un bel like a questo video mi raccomando se avete visto anche voi il mondiale iscrivetevi al canale per questa impresa leggendaria di Pogacar io ovviamente alla pelle del dodo la pelle del doga ve lo dico eh la pelle del doga è da tanto che seguo le gare ma non ho visto mai una cosa del genere emozioni è stato puro raga questo è il video commento il video tributo per Tadej Pogacar che indosserà per l'anno prossimo ma anche alla fine di questa stagione comunque già anche già Lombardia all'Emilia credo se non erro la maglia evitata e signori è tutto ciò ci vediamo nel prossimo video bella